Ha ricevuto l'ordinazione episcopale sabato scorso nella cattedrale di Brescia Monsignor Ovidio Vezzoli, vescovo eletto di Fidenza. Monsignor Vezzoli subentra dunque a Monsignor Carlo Mazza che ha presentato al Papa la rinuncia al raggiungimento dei 75 anni di età. Il nuovo presule, 61 anni, è originario appunto di Brescia, ha una specializzazione in liturgia presso l'Istituto Santa Giustina di Padova e ha insegnato questa disciplina presso il seminario e l'Istituto di Scienze Religiose. Alla celebrazione, presieduta da Monsignor Luciano Monari, era presente anche l'Arcivescovo Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna.